Ciao, sono Elena Arn e vi ricantarò del mondo dei russi. Ho sentito parlare un paio di ragazzi qualche giorno fa e uno di loro si lamentava della sua fidanzata russa. Ehi, ma questa non era così, sembra soltanto dolce e bravissima. Quando l'ho portata a casa si è cambiata da così a così. Quella vuole avere ragione su tutto, anche se la ragione non ce l'ha. Ma, lasciate perdere ragazzi, ho messo a casa un tigre feroce. E io dentro di me ho pensato che quel poveretto ancora non sa cosa gli aspetta, perché scoprire il mondo interno della sua ragazza e della sua fidanzata ancora le aspetta. Perché lui, ma che cavolo ti metti con una russa se non hai visto mai la Russia, se non sai il mondo dei russi? Chi di voi ha visto? Lo so che qualcuno mi dirà, Eh, sono stato a Mosca, ho visto la Russia, ho viaggiato. Sì, avete visto la Russia da fuori. È bella, colorata, bellissima. Però dentro, chi di voi ha scoperto come sono? Chi di voi ha capito qualcosa? Per farvi un esempio, vi leggerò una favola per i bambini. Ecco, da fuori è tutta colorata, tutta bella, tutta simpatica, come tante cose della Russia. Andiamo a scoprire come è dentro. Ve lo leggo. La Mosca Dorata, un soldino, ha trovato. È andata al mercatino, ha comprato un po' di tè caldo. Venite tutti, facciamo la festa. Sono venuti gli amici, hanno bevuto, tutti felici. È la nostra Mosca bella, lei adesso è la nostra stella. All'improvviso, un vecchio ragno ha portato la Mosca al bagno. La vuole uccidere. Da questo mondo farla sparire. Cari amici, salvatemi! Scappare, aiutatemi! Però tutti spaventati. Sono nascosti e gelati. E il ragno non scherza affatto. Le mani e le gambe della Mosca ha legato. I denti affillati le infligge dentro il cuore. Le beve tutto il sangue. La Mosca tra poco muore. Lei grida con ultimo sforzo. E il ragno sorride da una persona cattiva. Al momento arriva il piccolo zanzarino che vuole salvare la Mosca carina. Si avvicina al ragno, caccia la spada, le taglia la testa e la testa cade. Boom, 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 e rotolata. Via. Il coraggioso zanzarino alla Mosca si avvicina, la prende per il mano e insieme vanno a ballare. Cioè, una favola bellissima con un lieto fine. Così, se quando voi litigate con la vostra ragazza e lei vi sembra un pochino arrabbiata, leggermente feroce, vi fa mostrare i denti affilati, non dateli la colpa perché è cresciuta il mondo dove tutte queste cose sono normali. Sono una favola per bambini, un scherzo leggero. Perciò non vi spaventate, prendetelo con tranquillità. Per oggi è tutto. Le opinioni, tutte le cose che vi sono, tutte le domande, dovete scrivere giù che c'è un posto specifico per scrivere. Iscrivetevi al canale perché si sa, segui Arna e sei subito un alfa. Ciao ragazzi, ciao a tutti.